Torna al Palatrento e torna la vittoria la Diatec 3-1 contro Sora nell'anticipo della seconda giornata di Superlega. Prima le congratulazioni al neopapà Colaci, poi Lorenzetti si affida ad Antonov per l'Ans e Sceglienelli come opposto. Partenza lanciata, con muro e sistema di attacco sempre efficace per Trento e piccolo show di earn-out, prima con un recupero in rovesciata, poi con due ace consecutivi. È nel secondo set che qualche fantasma si palesa sul Palatrento, quando la Diatec fa un giro a vuoto che fa temere un replay della sconfitta con Vivo. Poi invece Lorenzetti rimette in carreggiata il match. La Diatec ritrova il suo sistema muro difesa e chiude di autorità 3-1. Il presidente Mosna ritrova il suo sorriso. Gabriele Nelli e Tina e earn-out raccontano la voglia di rivincita dopo la sconfitta in Calabria. Abbiamo giocato quattro partite, tutta il take-break. Questo era molto importante, andare a vincere giocando bene. Abbiamo avuto alti e bassi, siamo contenti, l'importante era prendere la vittoria e andare avanti. Sì, è stato un momento non bellissimo a Vivo, dove non abbiamo giocato neanche vicino alle nostre possibilità. Oggi è cambiato che abbiamo alzato il livello di cambio palla e abbiamo battuto molto meglio. Questo ci ha permesso di costruire tanti contraattacchi che poi li abbiamo messi giù.